Ad Adrano gli ambienti politici sono in fermento in vista della tornata elettorale del prossimo autunno. Si lavora sulle nuove coalizioni ma ancora è presto per capire chi scenderà in campo. Elezioni anticipate che si sono rese necessarie dopo la mozione di sfiducia dello scorso 28 marzo al sindaco Angelo Dagate, decaduto insieme al Consiglio Comunale. All'ex sindaco di Adrano resterebbe la strada impervia del ricorso al TAR di Catania per chiedere la sospensiva, come lo stesso ex primo cittadino aveva più volte detto ai nostri microfoni. Dagate sulla presentazione del ricorso ha sempre detto di essere in una fase di riflessione, non escludendo però nulla, anzi tenendo più che spalancata la possibilità di ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale. Ad oggi Dagate non ha presentato alcun ricorso, anche perché di ricorso in ballo al TAR ce n'era già uno, quello dell'ex sindaco di Rosolini sfiduciato dal Consiglio Comunale lo scorso 2 marzo. Sentenza che è arrivata oggi e non è stata favorevole per incatasciato. Il TAR ha rigettato il ricorso e dunque l'ex sindaco rosolinese che lo aveva impostato sul quorum dei votanti in Consiglio e sugli attiviziati per carenza di motivazioni rimane sfiduciato e il comune nel Siracusano commissariato fino a nuove elezioni. Bastano le motivazioni politiche e alla base della sfiducia si legge nella sentenza. Ora è chiaro che questa sentenza non è o non sarebbe per nulla ben augurante per Dagate e per il suo tentativo di sparigliare le carte. L'ex sindaco Adranita potrebbe dunque anche pensare di non presentare il ricorso, dato che questa sentenza potrebbe definitivamente spingerlo a rinunciare a tornare in carica.